La tavola rotonda dei cavalieri pentastellati. Eccoli qui tutti riuniti. I candidati vicentini in lista nella corsa per il Parlamento si presentano in grande stile. Eccoli uno a fianco all'altro nella formazione completa e scorrendo i loro volti non si può non notare che... Ma sì, c'è anche lei, Sara Cunial, la grillina che con un post sul web aveva paragonato la vaccinazione dei bambini contro l'influenza, niente po' di meno che al genocidio. Parole portate alla ribalta da Rete Veneta che hanno fatto il giro del paese mettendo in imbarazzo il Movimento 5 Stelle. Tanto che dalle liste per le elezioni politiche il nome di Sara Cunial era sparito per poi ricomparire in extremis. Si sarà pentita? La fermiamo per chiederglielo. Effettivamente il linguaggio utilizzato penso abbia portato ad essere comunque oggetto di polemiche giustamente. Probabilmente ho offeso qualcuno e chiedo scusa se ho offeso qualcuno utilizzando questo linguaggio così pesante. Adesso dovrà rappresentare il Movimento 5 Stelle che ha una posizione nettamente opposta riguardo ai vaccini? No, il Movimento 5 Stelle non ha una posizione opposta rispetto a che cosa? Rispetto a quello che ha scritto lei nel post? No, il Movimento 5 Stelle è molto chiaro e io sarò portavoce del messaggio del programma del Movimento 5 Stelle. Quattro vicini obbligatori e possibilmente monovalenti come da disegno di legge depositato dalla senatrice Taverna. Quindi si è convertita? Ripeto, il linguaggio utilizzato è stato probabilmente offensivo e chiedo ancora scusa. Avete sentito? Sara Cugnial si è pentita. Noi vogliamo crederle perché i grillini sui vaccini hanno idee diverse da quelle postate da lei. Se si candida a essere la voce del Movimento 5 Stelle in Parlamento deve essere convinta. I deputati che pensano una cosa e ne predicano un'altra sono l'espressione peggiore della vecchia politica contro cui i pentastellati dicono di combattere. Quindi sarebbe grave se Sara Cugnial fosse ancora dell'idea che i vaccini siano paragonabili al genocidio. Siamo certi che si sia pentita. Miracolo di Rete Veneta.